A seguito della violenta tromba d'aria e dei nubifragi che si sono abbattuti ieri sera sulla città di Bari, anche a Torre Quetta sono stati registrati alcuni danni, in particolare provocati dalla caduta di rami nell'area parcheggio. Per garantire la sicurezza e il rapido ripristino della normalità, Torre Quetta resterà chiusa al pubblico oggi domenica 31 luglio e domani 1 agosto. Anche sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dopo la bomba d'acqua registrata ieri sera, continua ad essere off-limits per chi vuole fare il bagno. Gli agenti della polizia locale questa mattina hanno transennato la spiaggia e comunicato per chi fosse in acqua di uscire. Continua infatti il divieto di balneazione, e per molti baresi, e turisti, purtroppo sono costretti a rimanere sulla spiaggia cittadina senza godersi l'acqua di mare.